Benvenuti a tutti, ecco con noi, non so se qualche giorno fa, la settimana scorsa, quando è che ci siamo visti, Gigi Merisio, ovviamente lo state vedendo, stai schierendoti la gola perché? Perché devo recitare le poesie. E sì, insomma, l'abbiamo rinvitato perché la cosa piace, anche se è chiuso un po' nell'ambito caravaggino, però non è solo il dialetto caravaggese, mi sembra che sia un po' più esteso, non solo Caravaggio, mozzanica, i paesini sopra crema. Hai perfettamente ragione, non dalla parte di Treviglio. Non dalla parte di Treviglio, ma dalla parte, non so, io avevo conosciuto un italo-irlandese, non mi ricordo si chiamava, un nome anche italiano, adesso mi ricordo, vabbè, che frequentava anche Caravaggio, che aveva fatto tutta una ricerca e allora il dialetto era legato alla transumanza e anche ai vie del Lach. Cioè, a seconda di dove passavano i contadini con le mandri, oppure dove portavano il latte, eccetera, eccetera, cambiava il dialetto perché c'erano delle parole, infatti la vostra zona, diciamo, sotto Treviglio, stiamo parlando di 5 km, però tutta la fascia che probabilmente viene dall'Adda che va a mozzanica, un po' sotto verso il cremasco, l'Empona, via del Lach, ok, tant'è che anche i salumi che non c'entrano niente con il latte, però legati ai contadini, hanno un sapore diverso rispetto a quelli di 5-10 km più sopra. Ho detto giusto? Hai detto giustissimo. Siamo più legati al cremasco e di là al Bresciano. A Bresciano. Serio e poi di là dal serio, verso L'Oglio, piuttosto che verso Treviglio e quindi verso l'Adda. Fa eccezione Brignano che invece è di là, ma è collegato a Treviglio. Treviglio, sì, vero, è vero. Un po' poi va bene. C'erano le questioni storiche, i visconti, ecco, i castelli, i legami storici e magari anche religiosi. Caravaggio è sotto Cremona, se non sbaglio, come Diocesi. Diocesi è sotto Cremona. Treviglio è sotto Milano, Cassano è sotto Cremona. Cose strane. Vabbè, dai, stiamo tergiversando. Allora, Quintose e Vergot. Quintose e Vergot. Quintose e Vergot. Ecco, ma spiegami come nasce la poesia che ci vuoi raccontare. È un flash brevissimo e, essendo in autunno, sulle foglie che cadono, viste un po' come... I burlasù che cadono, no? I burlammiasù che cadono. In italiano che cadono, i burlasù di Aleppo. Però non si può dire i burlasù. Non si può dire, o dimmi, di fatto. Vedete? Burlare giù, no? Burlare giù. Burlare giù. Burlare giù. Burlare giù. Burlare giù. リue dolore, li apura. Li mi han fastid-e. Ad oman qua, gutu te bätta che corso Adria i ruide. Vio par eines no, ma insieme forse sa che l'eprima era te o che quante i bet拉. E' più se tant' e amor. bella, bella, bella ci vorrebbe, lo sai, sfondo musicale ma che cosa, Beppi? con la chitarra, un ravaggio ravaggio, meglio, ravaggio più indicato per queste cose qui possiamo farle a due voci addirittura due voci guarda che è il microfono, con la chitarra ed ora? ed ora non mi ricordo quando, ma ho conosciuto bene quando, ma ho conosciuto il figlio di un attore dialettale che è di rivolta si chiama Bianchi l'attore e si è ripromesso di invitarmi al prossimo spettacolo più faranno rivolta? sì, e allora fai la poesia la tour per forza però, una domanda volevo fartela prima tu mi hai iscritto come in dialetto? no, aiuto non c'è in mente ho aiutato una compagnia di Caravaggio Medusa Fantasia a elaborare e a scrivere in dialetto delle cose che dovevano presentare ma non erano state fatte da me io le sono rimaneggiate ma vedo che queste cose che scrivi potrebbero la vita in cascina eccetera potrebbero diventare una commedia va bene parliamo di che roba che vuoi leggere del teatro dialettare il teatro dialettare si rappresenta spesso su palcoscenici improvvisati ma non per questo meno efficaci con attori magari alla buona ma sempre capaci di trasmettere messaggi di raccontare storie di sentimenti e di passioni ancora oggi vere e autentiche e l'attore ne è lo strumento più o meno consapevole la tour i robe tutte pronte la tour da 3 di quinte al sametta posta al truc con l'apis cicciulata appena sotto i jocci a mon ritoc depresa una slissata al custom che il gara d'os all'ultima moment ripassata la parte da mon de men e a mon di os adase adase sa sbassa tutta il luce la set la smorza i us am fonda la sala screca muida na cardiga am quarta fila am col de tos po am cito spesso che dura am fosca ta sconfonte quasi a fa pura sa am pesa il luce sul palco mia desvia mensa di note dolce lente i gota once a once diurege attente di spettadur chi scolta e la tour le le nasce al mondo e nasira al comienza a parlare con la us de molta de u che fa fariga di riusa fa de poca la parlada de una volta questo è un principe ma dopo un po' per volta la san franca la us al pensantere di lui se l'era complicata la battuta e poi se mi è scappata in quattro parole strisce e la rapprua po' l'ur dell'anima e sua cresce del cuore e sua dolore virtù e vese da venima che il recita il desliga fa la storia è lui la più in natura che conta su una trama ma il cristiano è l'ur che il bolsa o il trema è quel che il fa successo sul palco che il senso di tristeza o allegria ha l'ur sulla cardiga il gaparvira la mente ascolta il cuore svidati su malessie tutte verside pure e ingiustizie e a turch gaparvira sente spesebu poluria o madone come lui bravissimo questo era l'attore tante belle dei termini uno che mi ha colpito molto all'inizio è la cicciulada della lapis che una volta e mi ricordo dove lavoravamo Tecattini si faceva proprio così si che c'erano lì vedevo gli piegati eccetera che avevano le maniche nere sopra la giacca per non sporcare la camicia la giacca e i gometi in modo perché dovevano appoggiare perché allora sui tavoli sulle scrivanie c'era la carta carbone che la spurcaia che serviva per copiare perché per noi è roba normale un ragazzo di 15 anni o di 20 anni ma anche da 30 spiega questa carta carbone che mi aveva infilata sotto un foglio per poter copiare far la copia che era mia la fotocopia e dopo che era l'apis che per cancellamia cioè la patita che non si cancellava la scrittura era quella che tra te cicciulae perché diventava diciamo non dico liquida comunque bagnata e quindi veniva assorbita nella carta era l'apis che sa cicciulaia 6 7 6 i beauty gear i grey laber touch viola perché grazie sono il libret sono il libret della spesa per me fa cancellare i cifre scusa guarda i 3 minuti ho 3 minuti allora secondo me le donne veramente mi piacciono mi piacciono ma è strano non è più più di moda è un periodo non solo superficialmente in senso fisico che non sarebbe neanche male ma anche in tutti gli altri sensi secondo me io ho un po' più di notare però posso anche sbagliare no è un po' più intelligente allora al signor che fa fare la mia stanza la mia stanza stupe la capicca il segreto è un po' più di notare con il cazzo che è l'umanità a lui vimbe ragazze spose mamme o nonne come possiamo fare a meno delle donne donne poppe chi giova col bambulot a fa la mamma sciate a stimaste e nace al spezz con la sutana fiole che a prima era che ha sverlusi ioci spuse chi spetta il degiost a po' da noci mamme chi attirasse i fioi toci quanti nonne chi vessi ai neucci poseglie granci donne chi rida donne chi piazza donne chi spetta che chi andai dell'ons donne chi augura chi fa la noc donne desde quando sei malati donne chi prega sancia madone mamme chi tol be lo setta settantone donne giuine come la speranza donne belle come l'è l'amor donne l'ostre d'intelligenza donne dolce come il bel pur donne gnocche chi ha pazienza donne forte poco andai mura ed è proprio mia facenza dell'or l'altra metà del cuore ma metto boer chissà perché che oltretutto la stacciamo a manzoni è lucia possiamo dire io non mi chiamo renzo tramaglio possiamo dire che abbiamo qui il manzoni della rusa neva che sta risciacquando appunto come si chiama la rusa la bassa no il bass ecco che sta risciacquando il caravaggese così si dice nell'acqua limpida di caravaggio ancora limpida l'acqua caravaggio nelle risorgive si dopo dopo vabbè ricordiamo che noi quando eravamo piccolini trovevamo i pesci nei fossi trevigliesi o caravaggini eccetera 30 secondi Gigi devi solo salutare o inventarti qualcosa me la invento nel senso non so che te la fai più tempo a inventare perché 29 secondi sono pochi no bella la meseta bella la meseta è brava ceppa è forte c'è la buona spalle larghe di una volta ma mi pare quel mager marotone c'è che parla poco laura e tende con i discorrent tra le loro poche pensi in dialetto e si ha capito di voi perché prova da tutti per me sbagliare iscolta e da rispetto è giusto sentito il segnale abbiamo finito il nostro tempo Gigi è sempre bravissimo e avremo l'occasione di rivederci ancora e magari anche con Ravaggio magari una bella mangiadina ciao arrivederci a tutti di nuovo ciao amore Grazie a tutti.